Tra i protagonisti della vittoriosa qualificazione della Juventus ai danni di un tutt'altro che spento Ajax, qualificazione molto sofferta dai tifosi bianconeri e resa possibile grazie ai calci di rigore che Dino Zoff ha parato, un cenno del tutto particolare tocca ad Antonio Cabrini, ventenne terzino della Juventus. Sulla sua stessa linea Claudio Gentile, sempre pronto a tamponare le iniziative del piccolo pericoloso Tahamata, è altrettanto rapido e disinvolto nel proiettarsi in avanti verso l'area olandese. Ma vediamo rapidamente cos'è successo prima dei rigori. La Juve parte un po' contratta ma cresce con il passare dei minuti e dal ventesimo va in rete con Tardelli dopo un'azione di Gentile cui fa seguito un cross radente che sfugge al portiere. Prosegue la spinta bianconera e dal trentatresimo, dopo uno scambio con Bettega, Causio entra solo in area, il suo tiro è ribattuto dal portiere in uscita. Sul finire del tempo la Juve sfiora il secondo gol, centro di Causio dalla destra, gran tuffo di Bettega e stupenda parata di Schrievers. Nella ripresa la Juve è più morbida, forse appagata dal risultato e inevitabilmente si fa raggiungere anche se il modo è balordo. Schriea manca un aggancio in area sul centro di Kroll, il migliore degli olandesi, c'è un batti e ribatti confuso, poi il piede di Laling spinge la palla in rete. Al quarantesimo la Juve ha un passo dal successo, centro di Causio, guizzo di Bettega e rapida deviazione del portiere olandese. Si va ai supplementari che offrono ben poco tranne un paio di sostituzioni, tra le quali quella di Boninsegna al posto di Fanna. C'è poi un gran tiro di Gels che Zofa domestica in due tempi e quasi allo scadere dei supplementari l'ultima occasione per la Juve, la procura a questa discesa travolgente di Cabrini che piazza la palla verso il centro dell'area sui piedi di Benetti, ma il tiro va fuori e si va ai rigori. Il primo lo sbaglia Gentile, poi tira Gels e Zof blocca sulla propria sinistra. Esegue Benetti, gran botta e gol. Sotto a chi tocca al tiro Van Dord e ancora Sandino blocca in tuffo sulla sinistra. È il momento di Cabrini, sventola di sinistro con finta e palla in rete. Tira il cinesino Laling, fuori. Ultima battuta, Causio e non sbaglia, la Juve è in semifinale.